E bentornati in questa bellissima fantastoria, nella quale confermo un secondo posto e un primo posto. Stranamente, ma poi è successo una cosa storica. C'è un mio amico con la quale faccio tante di quelle partite ogni anno, perché secondo anno che faccio con loro il fantacalcio, non l'ho mai battuto in vita mia, questa volta sono riuscito. E non è una persona qualsiasi, ma è una persona che è in attacco immobile e quagliarella, che è, non per dire, ma non sono da poco. Detto ciò, cominciamo parlando del fantacalcio, in cui sono a 33 punti, sono primo, e secondo è a 32. Diciassettesima giornata del fantacalcio, diciassettesima giornata di Serie A. Partiamo. Allora, partiamo dal presupposto che in porta ho messo un cranio o un consiglio, avevo. E in ogni caso avrei fatto schifo, perché hanno subito entrambi un gol. Cranio, subisce un gol, prende 5 e mezzo. Spinazzola, fa pena, e prende 5. Va bene, ci sta. A Cerbi prende un bellissimo 6, e meno male che almeno 2 prende 6. Poi c'è un Manolas che prende 6, e c'è un Faroni che prende 6. Tutto 6, praticamente, a parte Spinazzola. In panchina ne aveva un 6 e un 6. Milankovic e Smoling, non cambiava nulla. A centrocampo, Vertuzzi bloccato, non fa più gol, nessun rigore, nessun altro. Prende 6. Chessi e Leao hanno cominciato la giornata al meglio e mi hanno portato subito due gol. Ok, signori? Cioè, nel senso, la vittoria del Mien è dovuta a Leao e a Chessi. Entrambi hanno fatto un gol. Rigore di Leao e di Chessi e i gol di Leao. Perfetto, basta. Già questo... Ah, dimentichavo un particolare. Leao, con questo gol, supera i bonus che aveva fatto l'anno scorso. L'anno scorso aveva fatto tipo 6 gol e 2 assist. Questo anno è già 5 gol e 4 assist. E siamo a metà campionato, quindi sta migliorando. È già qualcosa di buono. Poi c'è Mkhitaryan che prende 7,5 perché ha fatto un assist. E meno male che l'ha fatto, sinceramente. E meno male. In una prestazione... Diciamo che poteva andare meglio. Considerando che giocavano contro l'Inter. Non posso dire nulla. Vlaovic, ormai è tornato al gol, segna spesso. Questa volta non ha neanche segnato il suo rigore. E hanno vinto... No. Sì, ha segnato il suo rigore e hanno vinto contro il Cagliari. Che ha sbagliato il rigore e loro hanno vinto con un gol. Non mi ricordo. Comunque Vlaovic ha segnato. Dzeko, non hai fatto differenza durante la partita contro l'Inter. Però ho preso 5,5. Leao, 10,5. Yeah. Il mio avversario non è da sottovalutare. Perché il nostro caro Pippo, Filippo, ha un Perino in porta che prende 7,5. Quindi il Genoa non subisce gol. Ha un Ghiglione. Ha un Pezzella. Ha un Chier. E uno Zappa che non gioca stavolta, signori. Se non gioca Zappa entra Augello. Che prende 6. Poi mette un Dukic che prende 5,5. Un Diuricic che prende 5,5. Un Zaccani che... Maledizione Zaccani non so più cosa abbia. Tra Zappa e Zaccani io non so più cosa fare. Perché sono... Personaggi stranissimi. Segnano Fannasi e tutto il resto quest'anno contro il me. E io... Allora ciao. No parole. Detto ciò, poi in attacco il mio amico aveva Quagliarella. Immobile e Orsoini. Orsoini prende 5,5. Immobile. Non fa nessun gol. E prende 6. E basta. E poi Quagliarella non gioca. E dovrebbe subentrare qualcuno dal panchia, no? Dovrebbe subentrare un Deulofeu, Galabinov o Kaka. Non gioca nei suoi dei tre. E quindi chi subentra? Shabot. Che prende 8 perché ha fatto l'assist. Non ho parole. Non ha parole. E ha subentrato lui che ha fatto un bonus. Comunque in tutto ciò lui ha fatto 69. Io 79. E vado a vincere. 3 a 1. Mi spiazzo al primo posto in classifica con 33 punti. Secondo è 32. Il quarto e il terzo sono a 24. E poi via dicendo. Nell'altro fantacalcio. Quindi sto ancora comandando. Per ora. E sta andando anche abbastanza bene. Perché ho la migliore difesa, diciamo. Sì. Decisamente sì. E il mio attacco non è dei migliori. Però vabbè. Nell'altro fantacalcio ho subito l'ennesimo 2 a 1. E dietro stanno cominciando ad avanzare. La cosa non è per nulla rassicurante. Perché nonostante il mio avversario dicesse Tommy, Tommy, Tommy. Tu dicevi che avremmo pareggiato o avrei vinto io. Hai vinto tu. Tommy. Tu mi hai portato sfiga. Basta. Nonostante ci sia stato un Higit in attacco che ha fatto gol e due assist. Un Belotti che ha preso 5 e mezzo. Un Dibana che ha preso 6. Un Chiesa che ha preso 6. Un McKennie 6 e mezzo. Un Freude 6. Un Cialanoglu 6. Un Zapp che non ha giocato neanche qua. Ed è subentrato un Berzinski con 5 e mezzo. Uno Skriniar che ha fatto 9 e mezzo. Cioè vi rendete conto che il gol che ha fatto l'Inter contro la Roma gli ha fatti un difensore. Anzi. Hakimi e Skriniar. 9 e mezzo Skriniar. Proprio lui. Eh vabbè io non ho parole. E 6. Di crescito. E poi Andanovic. Meno male che subisce due gol dalla mia Roma. E prende 4. Al suo tempo. Io ho messo Silvestre perché ho detto. Dai non prende nessun gol. Dai. Sono sicuro che ce la farà. Invece mi sa che ha preso anche un gol. E forse l'ha perso. Non mi ricordo nemmeno. E in panchina Ucranico ha preso 5 e mezzo. Vabbè. Feo Hernandez prende 6 e mezzo. Spinazzola prende 5 perché l'ho già spiegato. Bernalas prende 6. Hattelro prende 7. Senza bonus eh. Che sì. E Lea ovviamente mi ha salvato anche questo fantacalcio. Perché l'ho spiegato prima. Vere tu prende 6. Damsgar l'ho messo stavolta. L'ho messo. Ha preso 6 e mezzo. Lozano prende 6 e mezzo. Gioao Pedro mi ha sbagliato il rigore. E ho perso per colpa sua. Ho fatto. Perché ha preso 1 e mezzo. Ho fatto 69 e mezzo. Gioao Pedro. Avesse preso 6. Avremmo pareggiato. Avesse fatto il gol avrei vinto forse. Invece. Baiandomi il rigore. Il primo rigore della sua stagione. È rimasto 10 gol in campionato. Ma. 1 e mezzo ha preso. Detto ciò. Lui vince 73 e mezzo. A 69 e mezzo. Tommy mi porti sfiga. E ha vinto lui. I miei avversari cominciano ad avvicinarsi. La cosa non è per nulla assicurante. Perché nonostante il caro amico Gianluca è a 32 punti. Con 10 vittorie. Due pareggi e una sconfitta. Io sono il secondo. Con 7 vittorie. Un pareggio. 5 sconfitte. 5. 5. Non sta andando per nulla bene. E gli avversari si stanno avvicinando. Perché sono 18 punti entrambi. Un altro 17. Un altro ancora 17. Quindi non sta andando per bene nulla. E qui in stima prossima devi stare molto attento a Mir. Perché potrebbero riagganciarti. E il primo sta andando a più 10. E in stima prossima sei conto il primo. La cosa è ancora più preoccupante. Molto. Quindi niente. Vediamo come andrà però. Che sfiga. Io non ho parole. Potevo pareggiarla. Vincerla. Niente. Sbaglio il rigore. Ciao. Eeeh. Vai. Vabbè. Però hanno male. Abbiamo progetto il derby con l'Inter. Che è meglio. Niente. Poteva andarci molto molto. Ma molto peggio. Detto ciò. Ci vediamo presto. E fatemi sapere. Ciao.